Sto vivendo come una grande partita, perché è una partita molto importante per noi e la viviamo così, una grande partita, però senza tensioni, senza paura e pronti per mettercela tutti. Non so, i calciatori che sono andati in mondiale hanno giocato le partite, hanno partito nelle gambe, questo può essere sia positivo sia negativo, però i ragazzi li ho visto bene e siamo tutti i prenti per domani, che è molto importante. Per prima guardiamo questa partita, prima dobbiamo passare il turno e dopo ci penseremo a altre, perché ci aspetta una squadra molto difficile, però come ha detto lei, in Europa ultimi anni abbiamo fatto bene e vogliamo continuare così. Passa in due partite, non solo in una, dipenderà a fare bene tutte e due le partite, non conta solo la prima, sono tutti e due che conteranno. Ma è una squadra completa, che ha un po' di tutto, di squadre moderne, sia di pressing, sia di aggressività, di tecnica. È una squadra basca di tutti i giocatori nati nella regione, allora si conoscono da anni, questo può essere la loro forza. Noi siamo una squadra di campionato competitiva, ce la possiamo giocare con chiunque, di questo dobbiamo essere consapevoli e possiamo andare lontani. Grazie.